Buonasera ragazzacci, come vedete sono a bordo della mia Spyder, un'eccellenza italiana, guardate un po' Ma non è tutto, perché sono appena uscito dalla Tanfoglio con due passeggeri altrettanto speciali, guardate un po' le mie spalle Per Saetta solo il top del top a livello mondiale ed è l'eccellenza italiana Un saluto ragazzacci e alla prossima avventura di Saetta